l'importante è tutto a posto per il momento, tutto a posto e niente in ordine tu come stai? Siamo in live nel frattempo sì sì ho visto solita merda siamo in live, sì siamo in live, bene va bene, benissimo non va peggio del solito quindi va bene è un buon mood no? vedere il bicchiere mezzo pieno ormai stiamo a certi livelli va bene tutto a posto tutta la grande assolutamente mi sa che devo aprire di nuovo Firefox perché ti vedo sempre pixeloso io no tu no? no io ti vedo bene eccomi qua no è Chrome che rompe le balle non so come mai non so se siamo noi che stiamo diventando io sicuramente io che sto diventando sempre più boomer non so più usare le cose quindi ci metto più tempo oppure vo sommo boomer chiedo b-u-m-e-r aspetta aspetta devi cambiarlo? sì 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 ciao Mattia un po' che non lo vedevo Mattia sì 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 ecco qua no ma perché veramente cioè io però vedi ma intanto che facciamo i soliti 5-6 minuti accademici cioè io ormai mi rendo conto del mio essere boomer dal punto di vista tecnologico cioè cerco di non esserlo però poi ecco non essendo sempre super aggiornatissimo sulle cose da fare poi mi sono dimenticato completamente tutto allora oggi sono andato in paranoia eh sì 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 infatti cioè è normale no? poi noi ci siamo comunque settati su determinate cose facili no? che facili difficili per noi vent'anni fa e poi con quelle siamo andati avanti eh sì esatto ma no ma poi anche anche cioè poi ci ho pensato dopo a quello che era successo oggi e mi sono detto boh ma se fosse stato tipo vent'anni fa avrei risolto in 5 5 minuti di orologio eh sì sì oggi ci ho messo una giornata in tempo mi sono fatto schifo da solo però vabbè oggi hai lavorato così hai fatto il tecnico del pc oggi ho fatto il tecnico quando da bambino ti chiamavano eh vieni a sistemarmi il pc che tu che sei bravo no? sei tecnico del pc tu che sei tecnico del pc sì 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 vabbè a me hanno smesso di chiedermi quando gli ho chiesto chiedere soldi anche i parenti vuoi che venga mi paghi non mi hanno più chiesto un cazzo ma così te rigo io non ce la io non ci riesco cioè oggi per esempio mi ha scritto una persona che conosco mi ha chiesto voglio iniziare a fare twitch in maniera professionale posso abusare del tuo tempo voglio un po' di consigli pagami no assolutamente no 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 per carità consiglio lo facciamo volentieri ma quando poi diventa recidivo che il parente ti chiama sempre tutte le volte perché devi venire a casa sua a metterli no basta eh no vabbè certo ma quando diventa ecco una lavoro serio allora no eh eh che cazzo cioè vabbè giusto giusto pazienza comunque tutto questo per dire che siamo vecchi e nonostante siamo vecchi siamo ancora qua a parlare di fumetti eh beh giusto c'era la mamma di Benson Richard Benson che diceva c'hai 50 anni e stai ancora a sentire i dischi e lui le rispondeva lavora tu vecchiaccia che hai la pelle dura io sono creatura non posso lavorare cioè questa è la somma che bello eh sì non sapevo eh sì bello ci piace questa cosa qui molto molto poetica un pensiero un pensiero poetico fantastico ci piace questa cosa molto ma è filosofia cioè vita no diciamo ma che cazzo vuoi cioè saranno fatti i miei no assolutamente quindi assolutamente sì allora ma sì iniziamo poi chi non c'è non c'è stasera sono gasato che seratona seratona ticci perché io ormai sento sento nell'aria che sta arrivando capito abbiamo fatto questi dip di Katia Barba Nera siamo un po' di settimana che cominciamo a fare un po' di di black dipping no io io ho hype tanto hype allora in realtà questa era una serata che io volevo fare comunque da tempo e ho detto a Gabriele dato che l'altra volta abbiamo parlato di destino ma poi neanche a farla apposta la settimana dopo sono usciti Vanagur e Katarina Davon che di quello parlavano e insomma e quindi si sono trovati Saturn ma è destino oppure fortuna oppure Katarina Davon in realtà era già Saturn che si stava si toccava da sola no perché voi dovete dovete sapere dato che ormai il lunedì è un po' come una sorta di confessionale non abbiatene a male però sono cose pubbliche io ultimamente mi sono ritrovato una marea di commenti sotto i miei video di persone che mi hanno schiesto ma quindi se Katarina Davon ha preso il potere di Saturn o quanto meno la fisionomia di Saturn ma quindi quello che noi vediamo quando legge il giornale con l'incidente di Eged un giorno prima tra l'altro si è Katarina Davon ma per me anche quello nel volume 25 era Katarina Davon due anni prima quando commentavano la taglia di Rufy era lei perché tu in Pelldown l'hai vista? io no io no io non ho visto niente io non ho visto niente io non so assolutamente nulla non ho visto nessuno e quindi chi lo sa capirà capire così è così è andiamo a insomma fare una sorta di approfondimento possiamo dire sul serio un vero dip un vero dip anale anal dip anal dip su Barba Nera andandoci a rileggere tutte le volte che Barba Nera è uscito fuori più o meno sì praticamente a parte due o tre cazzatelle con Ace quando commentavano sulla nave così ma erano proprio senza senso non ho messo tutto il resto in modo da esatto in modo da diciamo così cercare di capire qual è il piano di Barba Nera se si può capire qual è il piano di Barba Nera capiamo capiamo se siamo pronti la settimana scorsa abbiamo già rivelato svelato sì sì abbiamo già abbiamo già risolto One Piece quindi non so quante volte abbiamo risolto noi abbiamo risolto One Piece dei multiversi sì vero del nostro mondo però ancora ma quello ci sta pensando Ara ma dei multiversi l'abbiamo risolto assolutamente sì aspetta fammi vedere un attimo una cosa ok tutto a posto possiamo partire partiamo 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 andiamo immergiamoci immergiamoci in ordine cronologico cronologico nella storia nella storia di One Piece cioè non in ordine di apparizione ma in ordine cronologico delle cose che accadono cioè anche momenti in cui dice cose noi le contestualizziamo con ciò che racconta poi capirete meglio comunque esatto questa è linea teorica se non contiamo l'SBS di cui non sappiamo niente è la prima volta in cui noi ci imbattiamo in marcia di Teach detto barba nera esattamente così con il passare del tempo la nostra surma cresceva di numero noi siamo avevo letto noi siamo peccatori peccatori noi siamo peccatori venite con me vi farò pirati di anime siamo sì sì siamo pirati non vedi vi prego non ho dove andare come ti chiami Teach e di Orfanelli va bene sali pure a bordo salga a bordo che poi qui non mi sembra un'isola d'inverno no per niente sembra quasi Jaya per come poi poi non è Jaya ovviamente però sembra quasi Jaya per come rappresentata è un'isola tropicale sembra sì però cioè tenendo conto che Rufy diceva che quelli che stavano nelle isole d'inverno non dormivano e che se non morivano sai no uno dice ma quindi se Barba Nera davvero fa parte di un'isola dell'inverno com'è che oh è una fregnaccia cioè oh chissà chissà più d'altro qui l'uomo il bambino Teach è già appartenente a quella linea di sangue di cui parla è certo quindi chissà se già il piano qua era già partito in testa sua o no eh questa è la bella domanda diciamo che sarebbe interessante da capire se Teach già a quest'età aveva pensato che un giorno avrebbe potuto incontrare Barba Bianca e sulla sua nave avrebbe potuto trovare il frutto oppure è stata una conseguenza dell'essere diventato un pirata di Barba Bianca ma la domanda forse anche meglio è perché proprio Barba Bianca cioè poteva anche Roger per quanto ne sappiamo alla fine erano loro due i pirati più 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 forti del periodo oltre a Shiki chiaramente e vabbè dopo non so perché io me lo sono voluto tenere blind questa cosa quindi non sono andata a vedere le cose che sono la scelta meglio però Barba Nera non dice che stando sulla nave di Barba Bianca avrebbe avuto più possibilità di trovare il dark è relativo poi alla fine i pirati viaggiano navigano poteva essere Roger poteva essere Newgate per me ha scelto lui non lo so sai è anche una fregnaccia che ha detto è un misto di verità e falsità ti dico il perché non lo so cioè ti dico perché magari secondo me lui ha detto quella cosa secondo me se ti ricordi proprio in questi capitoli c'erano Buggy e Shanks che rosicavano nel vedere le imprese di Barba Bianca perché Barba Bianca cioè rispetto alla loro Shum era quello che stava sempre sui giornali perché facevano le imprese più mirabolanti quindi Roger è diventato re dei pirati e quindi quello gli ha dato la nomea però prima che lui diventasse re dei pirati tutto sommato quindi immediatamente era più esposto eh sì può essere cioè io l'ho sempre alla luce proprio di quella roba lì del fatto che Shanks e Barba e Buggy rosicavano cioè io l'ho sempre interpretato con sì è vero che poi per quel poco che sappiamo Roger stava a God Valley sarà successo qualcosa con Rox di Xebec però c'è stato un momento in cui Barba Bianca era il vero dominatore prima che Roger diventasse re dei pirati ci può stare pensiero mio sì sì ma avrebbe senso nella sua semplicità alla fine dicevi era più esposto mineticamente quindi ha scelto lui cioè è un po' come scegli il cavallo vincente tra i tanti perché quello effettivamente aveva le carte più più in suo favore sì ci sta questa magari questa leggila tu ma questa è quella diciamo sono quelle quattro vignette che molti lettori di One Piece non hanno mai letto ah sì allora cosa dice quei due sono apprendisti e risponde Marco sì sono in giro da parecchio tempo non sembrano forti eppure hanno il portamento da uomini navigati risponde Marco e Shanks sai quel tizio col berretto non ha dormito né durante la tregua né la notte precedente né ancora quella prima e perché sostiene di non aver mai dormito sin da quando è nato eh esiste una persona del genere wow così la vita è due volte più divertente non farla così semplice idiota è un mostro questo è è una cosa che ritorno io dico svelato svelato il mistero di Barba Nera che non dorme apparentemente e quando noi tiriamo in ballo questa storia del fatto che lui non dorme ancora oggi ci sono persone che mi chiedono ma dove lo dice lo dice qui quindi nel caso tenete a mente per il futuro ecco 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 perché ho messo questa perché qua racconta di Satch quindi abbiamo un salto temporale ovviamente di tanti anni però qui è il momento dove succede quel che succede lo racconta qua vai leggi leggi lo ammetto sono stato io ad uccidere Satch il comandante della quarta unità ma non ho avuto scelta stringeva tra le mani il frutto del diavolo che avevo sempre desiderato e le regole della nave erano chiare chi trovava un frutto aveva il diritto di mangiarselo un po' come quello che diceva Big Mom quando arrivano a God Valley ti ricordi? sì dice chi chi trova tiene chi trova tiene vero probabilmente Newgate aveva ereditato questa cosa no? eh può darsi tempo fa memorizzai tutte le forme dei frutti del diavolo da un libro perciò realizzai immediatamente che era quello che stavo cercando comunque posso dire una cosa che faccia di schiaffi che c'aveva sanno male che è morto cioè proprio appena lo vedi lo vorresti prendere a randellate dalla mattina alla sera poi l'ho abbellito un po' nelle seconde versioni però inizialmente era veramente una faccia di culo cioè guarda lui è tutto contento cioè Borba Nera dietro guarda come sta rosicando sta rosicando tantissimo è meraviglioso questa cosa qui lui è tutto felice e contento lui dietro rosica come un castoro dice che cazzo sta cioè è proprio facci caso era il cappello di Ace era felice e contento è proprio questa roba qui cioè lui che è tutto contento secondo me lui manco sapeva che cazzo di frutto era questo ma figura Nera sta già sfoderando il suo il coso oscuro di quando c'ha il potere senza avere il potere è proprio il potere del rosic che monta 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 e fa roba meraviglia bellissimo non si può guardare non si può guardare ne lo giuro è un uomo distrutto è distruttissimo ma sì ma perché pensa questo che non solo non dorme da 40 anni poveraccio e lui non vedeva l'ora di mettere cazzo dopo 20 anni scatto matto dopo 20 anni e quello e non trovarlo e poi secondo me se glielo chiedeva diceva per me gliel'ha chiesto lui gli ha detto di no con quella faccia lì gli ha detto di no e lui l'ha ammazzato quindi è anche legittimato sono convinto di questo mannaggia l'amore scusate non ci faccio troppo mi ha fatto ridere zooma sulla tavola a fianco dai scusate zooma sulla tavola a fianco sta proprio rosicato basta mi sono ripreso zooma zoom sulla tavola non è possibile è finita qua stasera è finita qua ma non si può guardare ve lo giuro basta allora l'unica ragione per cui sono rimasto per così tanti anni in nave di graffi bianchi è perché restando con lui avrei avuto maggiore possibilità di trovarlo scendi veloce non sto guardando scendi bro scendi se non ci fosse riuscito pazienza ma quel frutto finì tra le mani di un mio compagno così è ucciso sacca e l'hai rubato dice Ace beh quella è stata l'eccitazione del momento ma non lo capisci era destino questo frutto mi ha scelto ze ha 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 Ace con questo potere sono diventato imbattibile guarda bene pur essendo un roghi è unico sono invincibile ma scusami perdonami ve lo giuro non rido quella è stata l'eccitazione del momento insomma mannaggia la morte questa è linea teorica la prima volta che sentiamo parlare di Bardo Nera esatto esatto all'interno del ma cos'era volume 14 15 e tu dici wow la ciuma di pirati sono i cinque pirati il capitano si faceva chiamare Barba Nera la prima volta ho letto questa roba qui wow Barba Nera dentro guampissimo via vittoni a cinque mani io perciò a me perciò Barba Nera piace perché come pirata storico Barba Nera è uno sicuramente dei più affascinanti ma perché lui si è creato nomea di pirata affascinante con le micce nella barba 50.000 bandoliere 50.000 pistole cioè lui capiva non solo il fatto che bisognasse fare la vita del pirata ma era un po' come perdonatemi la battuta era un po' come Batman capiva l'importanza e la necessità della teatralità nel corso di una battaglia quindi durante le battaglie di Barba Nera erano veramente molto spettacolari da questo punto di vista quindi io mi ricordo quando ho letto D'Orto anche parlava di Barba Nera oh Barba Nera entra a One Piece chissà come cazzo sarà poi lui vedi questo tizio laido brutto sporco zozzo lurido ancora più meraviglioso per me e ha devastato questo paese in un istante con una forza che per noi era disperazione pura c'è una zanzara ostra l'onda le zanzare eh certo ma qui ormai è come Napoli cioè il surriscaldamento globale fa in modo che d'inverno è come Napoli non è qui solo cinque pirati come è possibile erano lui i Bondi dell'Utri con falonieri insomma e questo è il momento più bello di tutto One Piece guarda quanto sono belli capolavoro sono meravigliosi cioè il villain finale si giocano la cosa su su sulle cazzate sulle cazzate sul cibo vabbè qua cioè guarda che meraviglia come fai come fai a non farti piacere questo fumetto questa crostata di ciliegie fa schifo da morire questa crostata di ciliegie è buona anche qui no no ci vuole il fatto del sorriso lui è tutto intossicato quell'altro ride e si guardano malissimo cioè perdonami non può non essere il villain finale per me a questo punto no dai è troppo è troppo bello cioè Imo è insulso nei confronti suoi non può non essere il villain finale lui perché verrebbe meno questa scena qui per me sì 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 ma poi è bello perché poi dicono le stesse cose tutto il tempo letto veramente dal dottore giapponese è tutto speculare cambia una tipo una desinenza per differenziarli perché per l'età Rufy parla più giovanile Barbara Neva parla più navigato però dicono le stesse cose identiche ma di nuovo è una cosa che anche con te abbiamo detto spesso a me non mi dispiacerebbe se con Barba Nera cioè Oda ti ha fatto vedere che loro hanno preso veramente le due strade antiteriche per arrivare allo stesso punto per me sarebbe proprio l'apoteosi cioè con Barba Nera Oda ha sempre e questo l'abbiamo sempre detto ha sempre giocato con sottrazione perché tanto proprio perché lui è la nemesi di Rufy se conosci Rufy ti basta basta che Barba Nera è Rufy al negativo sotto molti aspetti quindi non c'è neanche bisogno di farti di Poni con Barba Nera anche se poi le voglio vedere da come si guardano malissimo bevono questo drink è incredibilmente delizioso questo drink è incredibilmente orrendo ma sei fuori di schermo ma sei fuori di testa zietto fammi 50 pezzi di carne da portare via vecchio fammi 51 crostate di ciliegie da portare via allora fai 52 pezzi di carne per me scusa le mie crostate diventano 53 no aumenta 54 no 55 crostate 110 come fantozzi la scena è uguale lui è filini 80 100 che meraviglia ma che vuoi mi stai provocando perché state litigando Rufy ci eravamo accordati non ti ricordi e poi non abbiamo i soldi per comprare decine di pezzi di carne da portare via non siamo qui per fare la spesa dice tu sei un pirata proprio così quanto è la tua taglia 30 milioni dice 30 milioni tu ma basta raccontando balle basta così non sto mentendo è la verità che meraviglia donna e qui l'isola celeste esiste veramente vada 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 legga e le crostate di ciliegie di questo po' sono insuperabili ah cioè lui ci tiene a dire questa cosa qui dice l'isola ce lo esiste e le crostate sono buone perché l'aveva detto Rufy che faceva cagare e quindi l'ha imbruttito l'ha imbruttito tu sei quello di poco fa perché sei tanto arrabbiata sorellina la battaglia di poco fa l'hanno vinta i tuoi amici e qui ripensa ai suoi due mentori vorrei superarci le vostre volte ci vendiamo sulla vetta va bene va bene anche le tue parole di sfida sono state notevoli sei senza dubbio una donna con le palle e qui ci vorrebbe Sorrentino e dice e su donna con le palle non so se mi hai visto la grande bellezza no dopo questa serata vatti a cercare questo monologo di dieci minuti di di insomma di servillo perché dice c'è il personaggio dice sono una donna con le palle e il personaggio di servillo dentro e su donna con le palle crollerebbe qualsiasi cosa gli fa un pippone di dieci minuti dove la distrugge totalmente a questa signora mi è venuta in mente questa cosa qui allora si rialzano dice quella nuova era di cui parlano è una stronzata un'era in cui i pirati avrebbero smesso di sognare ma quando mai e ride è incredibile è incredibile comunque che lui faccia discorsi del genere perché lui comunque è un uomo che pur non dormendo cosa che abbiamo sempre detto ha avuto un sogno lui davvero se puoi sognarlo puoi farlo sì sì le persone non smetteranno mai di sognare che fantastica questa roba qui cioè brividi che tavola pazzesca sì e poi cioè se non smetti mai di sognare significa che c'hai desideri si parte non facciamo il solito discorso però è quella roba lì eh sì è quella roba cioè è veramente uno quando si va a rileggere One Piece nonostante tutto il cuore di One Piece cioè è sempre quello che meraviglia non c'è neanche di pannelli nulla solo bianco don frase iconica e personaggi se non c'erano neanche Nami e Rufy e Nami e Zoro era perfetta secondo me tra l'altro una cosa ti faccio notare perché è una cosa che mi hanno raccontato spesso amici disegnatori quando Oda fa le tavole bianche vedi che ci sono sempre questi pallini e servono anche diciamo per bloccare proprio il momento quello che per paradosso sono quei dettagli che fanno in modo di rendere ancora più vivido nonostante siano piccoli dettagli la tavola che è completamente bianca sì 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 Twenties non è sbagliata la traduzione la traduzione è corretta è adattata in italiano i sogni degli uomini non finiranno mai non è italiano non vuol dire un cazzo quello che dice lui e le persone che sognano non smetteranno mai di farlo e questo è corretto italianmente parlando non ho ragione Luffy lo guarda tra l'ammirato e non sa che cosa è impietrito è impietrito sì la gente lo prende per il culo no? perché diavolo ha iniziato a guidare tutto ad un tratto cos'è questa storia di sogni eccellere sugli altri non è uno scherzo dice Ticci per me si è bevuto il cervello bisogna proseguire anche se ci prendono in giro quando si punta in alto ci sono sfide che non si possono affrontare solo con la forza bruta vero amico di Sanji da questo punto di vista e ride adesso non ho capito un cazzo e ci andiamo no? questa è guarda 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 quanto è bello guarda quanto è guarda quanto è quanto è figo e tu pensa a Rosic di prima con Sat come? pensa a Rosic di prima con Sat a parte cioè guarda dal punto di vista qui della delle impostazioni delle vignette barba nera con questo primo piano in dettaglio comunque messo sempre in diciamo in in contraltare con Rufy vedi? cioè le due facce della stessa medaglia cioè vedi anche dal punto di vista stilistico sono sempre l'uno al contrario dell'altro e qui cioè vedi c'è la porzione della faccia del volto destro di Teach contro la porzione del volto sinistro di Rufy così come anche qui vedi no? se lo vedi qua vedi qui c'è questo primissimo piano su su barba nera e qui ok che ci sono tutti gli altri però c'è questo piano americano che comunque va su Rufy e è la stessa cosa ogni volta che li vedi qua è uguale è fantastica questa roba qui vedi sono sempre in contrapposizione eh sì guarda guardale qua sempre cioè proprio sempre in contrapposizione sempre dicotomia assoluta ogni volta che sono loro due insieme sì sì fantastico è bello è bello anche vai indietro un attimino quando ancora ancora quando dice che Nami ha le palle cioè Rufy si alza la prima cosa che fa è toccarsi il cappello è molto bella questa cosa perché lui sta sta toccando la cosa per cui lui è partito a fare il pirata no? quello su cui ha giurato tutto davanti lui si sta cacando nelle mani in questo momento perché capito che è davanti uno che gli può mettere davvero i bastoni tra le ruote è la prima volta che lo fa di non dire niente scrazito ci tocca il cappello sì meraviglio sì 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 e poi poi e dice oh scusate non volevo disturbare sì siete di fretta vero? oh no oh signor di dio perdonami niente beh spero ci riuscite per davvero a raggiungere l'isola celeste e se ne va ridendo no? fantastico e qua ehi forse quel tipo sapeva qualcosa sull'isola nel cielo chissà chi è chissà ma non direi quel tipo non diresti quel tipo che intendi? e quei tipi indubbiamente dice Zoro ma saranno i fratelli del re del mondo uomo pesce? i gemelli uno e trino e lei dice come sarebbe a dire? aveva dei compagni dove sarebbero? e qua no? dice oggi il cuore alle prugne è particolarmente delizioso questa questa cosa di Ticce è uno dei punti focali su cui si basa la teoria dei gemelli perché dice ma com'è? nel bar diceva che faceva schifo e poi dice che è buono nel bar beveva un succo di frutta qua si beve il rum di prugne quindi capiamo capiamo no ma poi anche questa cosa di quei tipi cioè perché le persone si focalizzano su queste tre vignette non leggono questa esatto cioè loro hanno capito che Ticce non è da solo esatto e c'è Bargis e Vanugher esatto cioè loro chiaramente hanno percepito che Ticce praticamente c'ha i compagneros vicino a lui però le persone quando devono fare la teoria su Ticce che c'ha tre cuori quindi un polpo un kraken un cerbero quello che è perché lui dentro di sé c'ha 6.000 altre personalità e prendono sempre queste tre vignette questa però non la cagano mai che è la cosa fondamentale in realtà è chiaro è come fanno le notizie tu vedi il pezzettino e non guardi tutto il resto mannaggia l'amore eh sì certo qua siamo a Marigua ho messo questo perché ovviamente è il piano di Barbanera che noi cerchiamo esatto questo fa parte del piano dice allora immagino non dovrebbero esserci problemi se stessero anch'io Mioc non capisce anzi non mi accontenterò solo di ascoltare Mioc dentro di lì sta pensando al pezzo di terra sull'isola con gli umandrilli da addestrare sì sì devo dire che non mi aspettavo di incontrare così tanta gente di un certo livello che diavolo sei e come hai fatto ad arrivare fin qui questo è Sengoku nel frattempo guarda te lo giuro lo sto guardando adesso per la prima volta non ci ho mai fatto caso Doflamingo seduto sul tavolo al centro senza che nessuno gli dica niente Orso che è alto sei metri comodissimo su quella seggiolina sì ma non si rompe chiaramente però questo è incredibile cioè Doflamingo in mezzo al tavolo va bene quindi se permettete vorrei prendere parte a questa riunione che bello vedere Orso adesso e sapere che non aveva gli occhi d'acciaio ma erano le sue lenti degli occhiali in riflesso eh sì sono venuto fin qui perché ho saputo della recente sconfitta di Crocodile e perché ho anche sentito che state cercando un rimpiazzo tu devi essere la fit oh sono davvero onorato guarda guarda la sua faccia lui non sa un cazzo lui non sa assolutamente niente lui non sa oh sono davvero onorato che madame conosca il mio nome chi è? ma anche tutti gli altri non sapevano assolutamente niente lui è il grande ammiraglio ricordiamo cioè io mi immagino loro che devono timbrare il cartellino a Marie Joie la mattina e vanno e poi ci sono gli altri vice ammiragli che che li timbrano al posto degli altri perché tutti non fanno niente poi vanno al bar fu uno sceriffo nel west blue bla 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 vabbè questo è poco importante dice ok acqua passata in realtà volevo proporvi un ottimo candidato per riempire il posto vacante tra i sette corsari è il nome del mio capitano non l'ho mai sentito nominare e un pirata sconosciuto non potrà incutere terrore negli altri pirati sì ne siamo al corrente proprio per questo stiamo sviluppando un piano ben preciso ci serve solo un po' di tempo Flamingo si gasa sembra interessante e dai un'opportunità a Sengoku noi siamo i pirati di barba nera abbiate l'accortezza di non dimenticarlo cioè poi in realtà il loro piano era diventare e qui è interessante perché poi lo capisci col senno di voi non diventare flottaro ma diventare flottaro per avere accesso a Impel Down Impel Down esatto che era la cosa meravigliosa esatto poi ti riceve la taglia di Rufi 100 milioni mi sembrava strano 30 milioni erano pochi per uno con una tale ambizione infatti guarda qua allora che facciamo capitano e poi arriva Coso lo urta lui lo imbruttisce e qui c'è una delle mie vignette preferite di barba nera che è questa guarda quanto è fiero cioè qui è proprio qui c'è proprio una sorta non di dottor Jacky Lemistrate perché tanto l'hai già visto prima no? lui tutto potente gli uomini non smetteranno mai di sognare però qui cioè è proprio l'uomo che punta la vetta il masnadiero duro e puro cioè qui hai proprio il Long John Silver potente cioè quello che per me davvero sai che lui deve essere il villain finale io lo spero Oda non ci scammare ma che ce ne fotte di Musama non ce ne fotte niente dacci barba nera come villain finale totale tombale e dice non ho tempo da perdere con le nullità una testa da 100 milioni è proprio quello che stiamo cercando ci faremo conoscere in men che non si dica quando ai tempi c'è la tavola iconica vai quando ai tempi 100 milioni erano tanti erano tanti adesso 100 milioni è scarsa scarsa la rubetta vabbè qua se la cantano se la suonano eh sì questa è quella che abbiamo visto prima il destino la fortuna e bla 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 sì 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 qui c'è sempre il bimbo e loro poi ribadiamo sempre le stesse cose però lui se li hai scelti vedi se hai scelti i compagni a misura d'uomo per lui i titanici eh e poi arriviamo qua aspettate eh Zoron quel tipo quel tipo non quei tipi quel tipo dice a re a re vuol dire è lui quello là sì ok finalmente ho trovato l'uffica però di paglia è quello del tizio di mocktown chi sarebbe sono venuto a prendermi la tua testa da 100 milioni ti conviene arrenderti cioè lui manco lo sapeva che gli avevano inventato la cosa da 100 milioni sì 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 la mia testa cosa intendi dire con 100 milioni e così non ne sei a conoscenza ma perché è così buio qui sulla tua testa prende una taglia da 100 milioni di belli mentre su quella delle dislocazioni di pirati da 60 milioni poi ovviamente spara eh sì la zatteraccia muore e dice ha 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 che batosta ci sono sfuggiti è contento lui però è felice e qua abbiamo visto l'altra volta come fate essere così tranquilli abbiamo perso una peda molto preziosa fa qualcosa capitano e seguiamoli non alzare la voce Bargy non sono spariti dal pianeta a fatto che restino nella Grand Line li incontreremo di nuovo esattamente in questo mondo ogni cosa è un ingranaggio di una ruota che gira seguendo i desideri più intensi eh vedi che e quindi è tutto collegato eh sì è tutto collegato è già tutto qua One Piece e che è incredibile cioè io faccio un discorso anche questo l'abbiamo fatto mille volte però se no si va a rileggere Romance Dawn One Piece è tutto là dentro sì sì il modo di scrivere di Oda la filosofia di Oda la filosofia finale di Oda il finale di One Piece eh è già tutto là dentro sì sì la D nel Dawn Romance Dawn è già tutto là dentro cioè quando finirà One Piece quando finirà quando uno si andrà a rileggere il capitolo 1 di One Piece dirà ma era già tutto qui dentro non c'era bisogno degli altri 1199 capitoli è già è già tutto scritto perché Oda ci hai scammato 30 anni non bastava solo un capitolo 1 come One Shot era finito eh sì fantastico sull'isola della Grand Lane del Grand Lane guarda un po' un articolo che parla di cappello di paglia allora guarda il corriere del corriere dello sport ha fatto proprio un gran bel casino già ha raso al suolo l'isola giudiziaria scommetto che la sua taglia andrà alle stelle loro sono tutti contenti Anis Lobby e quell'isola è famosa per il treno del mare che la colletta Water 7 lui canta mentre parla cioè fantastico lui fa canticchia fantastico e non è nemmeno distante da qui anche questo è il destino è sempre scazzatissimo Vanago andiamo capitano anche qui guarda ci sto facendo vedi no poi queste serate servono anche per questo perché le guardo adesso felice e triste dici eh felice e triste e felice e triste si guarda che meraviglia guarda come le metti in contrapposizione Lafitte è felice Vanago è scazzatissimo Burgess è sempre felice Doc Q è proprio la tristezza infinita poveretti sono capitati nel nostro raggio d'azione sono proprio sfortunati e Tic giustamente dopo ride vedi ma anche qui guarda 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 lui ride lui è triste lui ride lui è triste e lafitte è dietro che balla lafitte è dietro e balla giustamente forza andiamo ma che meraviglia questa roba qui forza andiamo a complimentarci con lui preparatevi a saltare a saltare e qui insomma ce l'ascolto ehi aspetta Tic cercavo proprio te e qui qui sembra più che barba nera mi dà sempre l'idea non lo so di 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 quei dipinti del 300 ma se è vero si si con con la giberna con quella roba lì non sembra barba nera sembra una sorta dei danti alighieri ma si si fatto però in questo caso ma sempre dato ma solo questa immagine si si è molto bello è molto bello torniamo indietro di tre giorni ai fatti che si verificarono su una certa isola grand line isola di banaro oh eis comandante risparmiami quel comandante è un titolo che va pronunciato con rispetto non con ironia e così tu saresti il famoso pugno di fuoco si sono io lieto di conoscerti ho sentito che sei diventato il capitano di una sciurma di pirati capitano marshal di teach dei pirati di barba nera zanzadam zanzadam zenzadam che succede eis quanto tempo è passato cosa cerchi come ci hai trovati taglia corto teach guarda quant'è la fashion eis con lo zainetto uno come te che dispone del doppio del tempo rispetto agli altri dovrebbe sapere perché sono qui e noi per dieci anni non riuscivamo a capire almeno quindici quindici anni ogni volta che c'era questa frase completamente sbagliata ovunque ma non per colpa qua mi verrebbe da dire delle traduzioni ma perché era veramente incomprensibile senza contesto è incomprensibile è impossibile capirla eh sì adesso invece lo capisci se non dormi c'è il doppio del tempo rispetto agli altri per pensare cioè questo è il discorso te che puoi pensare al doppio del tempo quindi se è un tipo strategico questa non è una retcon questa è una cosa che ha strutturato nel tempo ah no chiaro cioè questo è un foreshadowing bello e buono fatto e finito preciso al millimetro cioè barba nera rispetto magari a tante altre cose a me è sempre sembrato molto coerente con tutto quello che ha detto tutto quello che ha fatto cioè Oda con barba nera ci ha sempre avuto secondo me un'idea piuttosto chiara in mente sì sì lo si vede anche mo leggendo questa roba con te che è tutto bello organico barba nera cioè tutto quello che ti racconta è tutto pensato e strutturato per me veramente lui se l'era già scritto cioè deve fare questo 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 poi nel mente magari me lo me lo strutturo meglio però è facile che pure sta cosa del sangue di teach non se la sia inventata adesso per quello che ha strutturato il personaggio ma guarda secondo me cioè il punto è che tu sai cioè parliamo del one piece che sappiamo e di quello che poi abbiamo visto nel corso di tutti quest'anno noi sappiamo che per esempio Ace Oda lo ha creato appositamente per ucciderlo sì perché serviva per far crescere Rufi è ovvio che quando metti insieme queste due cose la storia di Barba Nera che si prende il Dark Dark che è quello che tutto sommato fa avviare la catena degli eventi che porta alla morte di Ace che diventa Imperatore che si ruba il frutto di Barba Bianca cioè mi sembra una roba che è strutturata per bene veramente da Eoni sì e io ribadisco anche questo il fatto che Barba Nera ecco ce lo portiamo avanti dal volume 14 15 per me è sempre stato la cartina di Tornasoli del fatto che lui deve essere poi figlio del finale non avrebbe senso e poi c'è Musama lo so che Musama è il depositario di segreti potrebbe essere utile per Barba Nera come vi ho detto l'altra volta eh sì sarebbe un'imbruttita clamorosa non ha senso per Rufy non ha proprio senso di esistere sarebbe un'imbruttita clamorosa se lui uccidesse Imu cioè per me io ci spero tantissimo anche perché darebbe secondo me proprio quello scatto in più per far diventare Barba Nera il vero villain finale ah sì e la gente ci chiede ma non era immortale Imu com'è che è morto che se lo chiederanno sicuro perché non hanno capito che è eternamente giovane e basta eh vedi poi perché io la capisco poi c'è l'amico Silverstone che dice una cosa del genere ma il passato te lo deve spiegare Robin te lo può spiegare Imu sì ma ti può dare la visione dell'altra parte ti può dare una visione dell'altra parte tipo contestualizzare delle cose però il pippone definitivo te lo deve fare solo Robin cioè se il pippone definitivo sulla storia del mondo non la fa Robin è uno scam gigantesco è una delle cose più terribili di tutto One Piece cioè lei serve solo per quello voglio è brutto da dire però Robin serve solamente a quando tu arrivi all'Aftale ed è lei che ti legge i poneglyph definitivi che ti raccontano la storia del mondo lei serve solo a quello se non fa quello e questa roba qui te la fa o Vegapunk o Imusama è uno scam clamoroso eh sì è uno scam clamoroso vedremo tanto mancano novanta capitoli novanta capitoli quindi già lo so già lo so siamo solo un quarto sì sì allora vogliamo allora permettimi di chiederti una cosa vorresti unirti alla mission guarda lui come è vero vero Silvio vieni con me conquisteremo il mondo insieme vero Darth Vader ho già pianificato tutto nei minimi dettagli eh per forza l'era di baffi bianchi è ormai giunta al termine sarò io diventare re dei pirati bene cioè come diventi re dei pirati distruggo prima i centri nevralgici del potere guarda guarda è lui è lui e quindi è proprio Renzi vero rottamatore quindi tolgo di mezzo il pirata tra virgolette è più vicino a One Piece cerco di togliere di mezzo con l'intelligenza il potere militare del governo mondiale punto a togliere di mezzo il potere governativo di chi sta lì in alto vedi così punto al mondo e poi punto al One Piece e torna tutto che cuore che meraviglia che meraviglia prima di tutto dice prima di tutto tu sei fuoco no ti sei perso la tavola ah sì sì scusa prima di tutto andrò a Water 7 annienterò Luffy che appello di qua glielo consegnerò al governo Luffy cosa hai detto lo conosci cioè qua il primo errore che poi non è stato errore non te lo lascerò sfiorare cioè lui era convinto dai vieni adesso ti racconto tutto il mio piano vieni nell'amicizia vieni nell'amicizia te lo racconto tu quindi secondo me quando lui poi ha incontrato gli altri dentro a Impel Down lui ha spifferato tutto il piano ma sì sicuro una volta che gli ha detto di sì viviamo con te lui gli ha raccontato tutto non fa come Ruffy che è ermetico gli ha detto il sogno dopo 200.000 capitoli è vero vero vecchio ehi si dice non te lo lascerò sfiorare nemmeno come un dito lui è il mio fratellino questo dice tutto cazzo ho sbagliato e per quanto riguarda l'entrata della tua churma la risposta è no questo era Vanagur guarda quanto era contento Vanagur è contento quando spara quando lo ammazza quando spara lui è contento sennò ha quella faccia così e io invece sono oscurità Z oscurità proprio così comandante Ace tu non mi puoi uccidere e lo sai perché nell'intera storia dei frutti del diavolo quello che ho ingilito è noto per essere il più diabolico di tutti sto parlando del frutto buio buio appartenente alla categoria roja sono diventato l'oscurità in perso cioè dai per forza sole contro oscurità luce contro contro buio non può non essere lui il villain finale serve una scammata clamorosa è proprio fatta apposta a questo ti darò subito un assaggio di questo potere come vuoi dopo si picchiavano l'oscurità è una forza attraente è un potere in grado di attirare a sé ogni cosa e che non lascia scampo nemmeno un raggio di luce e questa forza d'attrazione non ha limiti anche se fosse sembra non avere effetto su di me dice se non ha capito uno cazzo perché non è ancora arrivato il tuo turno stai buono e dai un'occhiata alla città gli faceva tutto il trick con la città la forza attrattiva dell'oscurità condensa e schiaccia ogni cosa grazie al suo potere illimitato e poi vabbè illimitato power te lo stavo per dire cioè lei comunque gli sta spifferando tutto nonostante lui aveva voglia più di raccontare gli piace te lo stavo per dire l'oscurità trae qualsiasi cosa compresi i proiettili lami colpi fiamme e fulmi ma sai che figo quando si scontra con Nika per forza schiaffoni si devono pigliare cioè io continuo a dire non se ne esce da questa storia diversamente dagli altri roggia non possono rendermi intangibile e il mio corpo trae a sé qualsiasi dolore facendomi soffrire più di chiunque altro il contrario di quello di orso bartolomi quello deflette lì invece se li prende tutti ma in cambio di questo piccolo inconveniente la capacità di attrarre un'altra cosa gorgo scuro la forza traente dell'oscurità tira senza margine d'errore il vero corpo di chi ha i poteri di un frutto del diavolo lui è l'antidesiderio da questo punto di vista e lui se Imo avesse davvero un frutto glielo può togliere con un soffio lo rende un umano di merda senza niente eh sì così che il mio corpo possa caspita te ne sei già accorto è impossibile potopo un'altra cosa proprio gli fa tutto il pippone un'altra cosa che la mia oscurità trae a sé è il potere del diavolo in pratica finché resta a contatto con il suo vero corpo e non lo lascio andare il fruttato di turno non ha modo di utilizzare i propri poteri roger zoan paramisha nessuno è escluso ho ottenuto una capacità offensiva da cui coloro che fanno affidamento sui propri poteri non possono difendersi poi arriva cazzo tanti poteri non servono un cazzo è importante avere l'ambizione e quindi il povero ticcio con questa faccia insomma non mi è andata forse così tanto bene non ti ho forse dimostrato nulla non ti ho forse dimostrato che nulla sfugge alla mia forza attraente gorgo oscuro e poi si continuano a picchiarsi credevo che qualcuno dotato dei poteri una volta privato delle sue abilità si sarebbe rivelato un debole visto che fa affidamento proprio a ciò che gli ha donato il frutto e qui è incredibile guarda come il gioco come il contrario vedi Burgess è incazzato preoccupato è preoccupato ma da uno dei comandanti delle navi di baffi bianchi non ci si poteva aspettare altro che fosse incredibile anche nella forza combattiva di base però anche oggi ancora una volta ci troviamo di fronte a un bivio del destino nulla può contrastare l'oscurità nemmeno un osso duro come te e Ace cioè Ace comunque tutte le volte abbiamo visto combattere sempre a chi è padomazzato è incredibile è incredibile tranne contro smoker tranne contro smoker però insomma sempre a chi è padomazzato fatto sta che è un peccato sprecare un potere come il tuo perciò te lo ripeto Ace diventa un mio compagno cioè lui continua proprio a offrirgli il posto di lavoro l'unica cosa che conta in questo mondo è sopravvivere vero amico di Usop vero padre di Usop è uguale mi hai proprio mi hai proprio deluso Ace muori nell'oscurità ecco poi si picchiavano ecco c'era c'era fondamentalmente la scritta dell'incidente di Marineford il sole o le tenebre solo uno vincerà da sopra lo leggi ecco qua il sole o le tenebre solo uno vincerà bello vadi vadi dopo il declassamento di Crocodile da membro dei sette corsari è stato deciso chi lo sostituirà chi si si ma non potevi dirlo subito ci sono un sacco di pirati per mare chi è stato scelto il nome del successore Marshall di Tic meglio conosciuto come Barba Nera anche se sta già facendo parlare di sé nel mondo dubito che la notizia sia arrivata fino al mare di nebbia Barba Nera non avevo mai sentito questo nome è un fuggitivo della Churma di Baffi Bianchi ha mostrato le sue vere capacità ed è stato accettato è stato accettato qual era la sua taglia originale? zero interessante un enigma sorprendente che il governo l'abbia accettato e beh gli ha portato Ace eh sì che però in tutto sommato comunque il fatto che perdona ci ho pensato adesso il fatto che il governo si sia fidato di uno che gli ha portato Ace e che in realtà poi in linea teorica non ha mai dimostrato niente fa capire quanto loro fossero deficienti anche da questo punto cioè pensaci eh sì cioè io tipo cioè sappiamo no ecco come dicevano i flottari sono quelli che devono incutere timore nei confronti degli altri questa questa cosa che non sappiamo da quanto va avanti arriva al primo stronzo dice non ti preoccupare ma ci penso io ti porto il primo scappato di casa che trovo sì sì vai il posto è tuo immagina se magari erano amici proprio perché erano entrambi sulla barca di barba bianca no? erano fatto proprio il top il top scam da questo punto di vista che geni cioè è proprio incredibile questa cosa sì sì poi dopo dato che in chat dicono quindi perché lo che portava i cuori sì sì appunto cioè quindi dato che ormai si erano abituati oppure buggy ma buggy insomma cioè dato che si erano abituati bene con barba nera abbiamo fatto entrare uno ma facciamo l'interno l'importante è che ci siano poi questi cazzi fantastica questa cosa e qui siamo a Impel Down e arriva non fate complimenti io sono dalla parte del governo lo sapete no? caspita che luogo tetro e lui ride cioè tu appena lo vedi no? e poi lì c'è non si sa ancora che potere abbia non si sa ma sai che imbruttita clamorosa se fosse veramente lui sarebbe una roba incredibile sarebbe veramente sarebbe veramente una roba però mi sembra un po' troppo forzata no ci sono troppe cose a sfavore però sarebbe incredibile sarebbe incredibile comunque per il tuo caso che Tiss non si vede mai le orecchie potrebbe essere un segno del suo essere un uettrino ha sempre le orecchie coperte dai capelli le orecchie a punta smettila di dividere smettila di dividere tutto in bene e male cioè il fatto che lo dica lui ovunque in questo mondo non troverai mai una dannata risposta che poi è bello pensare ma perché ha detto sta roba cioè perché proprio lui perché secondo me in tutte queste frasi che lasciano un po' così ma vabbè c'è traccia del suo passato secondo me ah sicuramente sicuramente vadi vadi guarda un po' che gruppetto di facce interessanti sembra proprio che io abbia interrotto qualcosa e ti dice perché diamolo sei qui o forse dovrei chiamarti barba nera Jim ah ah dai non essere così aggressivo non è il caso di fare a pugni no sia chiaro so bene che tu e Ace siete amici ma sarebbe un errore riversare il tuo odio su di me già lui te l'ha detto non è colpa mia la gente dice lui è cattivo ha fatto lui te l'ha detto io non c'entro un cazzo tu sei barba nera vero non mi sono mai presentato da quanto tempo cappella di paglia anch'io rimasi sorpreso di scoprire che sei il fratello minore del comandante Ace sei sicuro di voler star qui l'esecuzione pubblica di tuo fratello sta per cominciare è incredibile come lui quando cioè se uno si va a leggere tutto One Piece ogni volta che comunque l'ufficio ha davanti un nemico non lo sta mai ad ascoltare si butta e basta con barba nera è l'unico che prima lo sa ascoltare lo ascolta cioè rimane anche Momoko sta incazzato poi dopo gli si scaglia contro però poi lo sta comunque ad ascoltare si si è come se comunque volesse sentire quello che dice eh cioè è stranissima questa cosa eh si ascoltando in giro storie ho scoperto che l'ex membro dei sette corsari Crocodile è stato sconfitto proprio da te Luffy capello di paglia lui è meraviglioso è assolutamente putrido proprio cazzo di schifo cioè proprio poi l'ho messa la frase è clamorosa è che giustamente Crocodile allora ma quindi Ace che mi stava inseguendo per un grave crimine perché teach ha fatto un grave crimine ma è come quello di Zunesha quindi Zunesha ha ucciso un compagno di ciurma di Joy Boy pensaci non sono cazzate tu hai mai visto Zunesha dormire pensaci non sono cazzate Zunesha è Zunesha vero assassino di Joy Boy pensaci per rubargli il frutto voleva essere Nika cioè Zunesha fantastico capisci se ci avesse lasciato andare avrebbe disonorato non solo il nome di Buffy Bianchi ma anche messo a rischio l'attività di suo fratello non esistono coincidenze nel destino ovviamente proprio come immaginavo hai davvero fortuna ora che il capitano è diventato un corsaro guadagnato fama la tua vita non ci serve più a nulla il tuo fratellone ha combattuto valorosamente cioè poi questi sembrano proprio tipo coro greco i soldati di Barbanera Barbanera dice la battuta fondamentale e loro come i cori greci ribadiscono questa roba assicurati di dire un bel grazie davanti alla tomba di Ace se non fosse intervenuto quello che sarebbe morto sarei stato tu cappello di palla lui l'ha ascoltato fino alla fine poi solo dopo ha reagito che non è da Luffy cioè Luffy va subito non non te fa parlare lui l'ha lasciato parlare è incredibile e allora fallo e gli dira il super cazzottone si picchiano e qua dice Jimbe non sprecare qui il tuo tempo le tue energie farsi prendere dalle emozioni e combattere ora non aiuterà a salvare Ace e dice sei più forte di quanto immaginassi anche la tua ambizione è migliorata rispetto ad allora e qui ho lasciato Crocodile perché era troppo bello hai detto barba nera giusto avevo sentito che un pirata sconosciuto della nave di baffi bianchi aveva preso il mio posto ma qualcosa non torna perché sei qui quando dovresti essere stato convocato dalla marina hai già denunciato al titolo di corsaro che tanto desideravi sebbene ci siano state alcune deviazioni fa tutto parte del piano ma ho forse l'obbligo di spiegarti tutto mister Crocodile è strano perché Crocodile non l'ha voluto in ciurma cioè facci caso ogni volta che ormai barba nera si è trovato davanti qualcuno di potente l'ho sempre invitato in ciurma con Crocodile no no non l'ho fatto Crocodile non lo voleva e lui francamente non me ne frega nulla che antipatico cioè lui vero red battle francamente me ne infischio e lui dice che antipatico sono bellissimi capito me ne frega un cazzo e questa per me è una delle cose forse più incredibili più belle One Piece sì cioè questo è veramente uno degli scambi di battute più incredibili di tutto One Piece sì io salverò sicuramente Ace beh non dirò che è inutile visto che non esiste nulla di impossibile in questo mondo e l'unico che lo dice è Willy Gullon vero Willy Gullon dice che nulla è impossibile quando l'uomo lavora con l'immaginazione giusto che è il desiderio cioè è il desiderio fanculo è sempre stesse puttanate l'isola nel cielo esisteva no così come il One Piece esiste senza ombra di dubbio che meraviglia cioè guarda lui come cioè quando fa questi discorsi è proprio come Barbero quando ti racconta la storia è gasatissimo lui è gasatissimo cioè non può non essere lui guarda questa è una delle facce più incredibili che fa Luffy Luffy lo schifa qui però anche lui nonostante sia schifato guarda la gocciuglia sulla faccia è preso male è preso malissimo però è anche lui nonostante tutto è affascinato sì 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 cioè è quel timore reverenziale perché è davanti a un suo pari e sa che quel personaggio lì gli può veramente rompere il culo state pronti ragazzi e lui continua a guardarlo no? e continua a guardare cioè a me questa roba qua abbiamo dei pazzi perché davvero quando ti legge ogni volta di Luffy degli scontri con Luffy lui parte in quarta non vuole sapere niente non gli sta ad ascoltare anzi quando parlano i nemici nonostante tutto non gliene frega assolutamente proprio niente invece qui con T cioè è come se fosse attratto sotto certi lo odia però è attratto sì 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 è un odio et amo set fieri escruzio è lui è lui tra qualche ora noi daremo vita a uno spettacolo tanto immenso che farà tremare il mondo e loro qui già sapevano che volevano liberare gli stronzi da lì dentro esatto e che essi volevano prendere poi il potere di Barba Bianca è proprio così questa è la cosa e qui eppure siamo ancora vivi anche il fatto che tu sei arrivato è destino però ho avuto credito di morire anche noi alla fine stati fortunati che si vive o si muoia è tutto deciso dal cielo chi si lascia sopraffare dalle paure perde è meglio vivere per l'istante successivo no ehi Silvio grazie per averci aiutato ti do nuovamente il benvenuto sembra che diventeremo ottimi compagni anche qui gli avrà raccontato tutto a Silvio per forza poi dice poi è consapevole quando sono poi a Marineford posso entravedere chiaramente il mio futuro fin da ora ho sempre ma chissà che cazzo gli ha raccontato porca puttana Oda che ha il figa che ha il figa che ha il figa Oda quando ce lo racconti pure a noi mannaggia la morte chissà che cazzo gli ha raccontato gli ha detto e io sono discendo da questa famiglia sono tatti tali tali voglio fare questo questo quello punto al titolo di re del mondo voglio che il mondo sia mio vuoi venire con me cazzo dove devo firmare eh mannaggia la morte mannaggia la morte è qua buongiorno cari prigionieri senza sogni destinati a finire la vostra esistenza in queste gabbie chiuse alla fine è una vita in attesa della morte perciò ragazzi che ne dite di fare un bel mattatoio lì dentro coloro che sopravviveranno verranno con me nel mondo libero come parte della mia sciurma vedi no quello che diceva a a Daokigi che cazzo te ne fai della tua libertà adesso sei libero che vuoi fare vieni con me tra l'altro il termine che usa per mondo libero è un termine che si usa anche nel concetto buddista cioè è proprio il mondo dove all'esterno il mondo della libertà è un mondo proprio libero il popolo che poi pensavo poi mi era venuto in mente dopo aver visto Catalina Devon che parlava con Saturn ma quelle in Pell Down sono tutti maschi a livello 6 lei era l'unica donna l'unica donna chissà se c'era una scella solo per lei magari invece c'è sotto un cannone anche lei chissà capiamo e qui si cominciano con una delle cose i più momenti più what the fuck è tutto One Piece con questo che spunta all'improvviso da dietro Marineford c'è qualcosa che si nasconde dietro la fortezza del quartiere generale ah beccato lui no è impossibile e non è da solo chi c'è nella zona esecuzioni oh finalmente ve ne siete accorti e lo guardo chiaramente Barba Nera guarda quanto sono belli i pirati di Barba Nera nel passato di tempo sono felice di vedere che non sei morto babbo tecce guarda Vasco Shot Pidavaro Pizarro ma che meraviglia guarda quanto sono potenti io ho quella scena qua lui è sempre scazzatissimo lui lui proprio per la serie mi ci hanno mandato va bene poi gli altri tutti felici più oltre chiaramente anche lui che meraviglia bellissimo no è incredibile è incredibile però One Piece è sempre calato è calato è calato sì 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 il bastardo che ne è di Magellan e che fine ha fatto in Pelldown come siete arrivati qui lo vedrai più tardi cioè non rompermi il cazzo comunque io collaboro con questi ragazzi quindi passo e chiudo vero influencer vera collaborazione grande ammiraglio se Goku non ha avuto modo di informarla ma poco fa la porta della giustizia si è aperta nuovamente ed è passata una nave a guerra non autorizzata quindi sono stati loro che diavolo sta succedendo e bla 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 e poi Dafeet racconta cosa ha fatto ho utilizzato il Marine eccetera eccetera e lui dice qua Barbaneri quanto pirata sei considerato un nemico del governo ed è impossibile aprire le porte della giustizia e infiltrarsi in Pelldown questo è l'unico motivo per cui mi sono fatto avanti come membro dei Sette Corsari infatti ora quel titolo non mi serve più Sengoku Cringia è certo Cringia ma è di nuovo il primo stronzo è come quelli scusatemi è come quelli che vi mandano non so se mi è mai capitato ma sicuramente vi mandano una mail sul vostro account non si presentano e dico ciao voglio fare una collaborazione con te clicca su questo link tu clicchi sul link si rubano tutti i vostri dati vi entrano nel computer si fottono tutte le password e vi hanno fottuto il computer cioè lì praticamente Sengoku ha fatto la stessa cosa con Barba Nera è arrivato la fitta dice vogliamo collaborare con noi questo è il link e loro hanno cliccato esatto letteralmente questa cosa qui è successa fantastico hai delle cripto salvate nella banca svizzera le vuoi? clicca qui per ottenerle esatto quindi il tuo obiettivo era liberarli esatto era il mio scopo sin dall'inizio e c'è dell'altro vedrete lui carica la bordata non se l'aspettava è il tento capitano e poi si picchiano male boom c'è nessuna pietà e poi qua un po' di party così era giusto per far vedere vabbè qua c'è fondamentalmente il modo in cui Ticci verrà sconfitto da Luffy cioè lui che è convinto di vincere esatto infatti poi Newgate lo dice esatto un po' di fiducia imprudenza sono queste le tue debolezze cioè lui verrà sconfitto da Luffy in questo modo qua nel momento in cui sta per vincere pensa di aver vinto e quello sarà il momento in cui perderà in realtà qualsiasi villain poi di fatto purtroppo sì però cioè alla fine tutto quello che abbiamo già visto anche contro Ace bene o male stava succedendo la stessa cosa contro Barba Bianca è successa la stessa cosa contro Magellan è successa la stessa cosa contro tutti gli altri che ha incontrato bene o male sono successe quasi le stesse cose quindi è sempre andata così però la fine a Barba Nera non interessa perché lui l'ha detto arrivare alla vittoria arrivare alla vittoria non significa essere più forte significa arrivare alla vittoria esatto esatto proprio come il topo nello zodiaco cinese esatto e qui chiaramente c'hai la tabla che ti dimostra che se non ti sparano non muori cioè che è proprio una delle delle dimostrazioni lampanti che ti devono per forza sparare infatti ho lasciato il discorso di Newgate perché comunque può essere anche interessante nel contesto non sei tu sei ancora vivo l'uomo che Roger sta aspettando se non altro non sei tu così come c'è chi porterà avanti la volontà di Roger c'è chi e ci sarà anche chi porterà avanti la volontà di Ace anche se si spezza la linea di sangue la loro fiamma non si spegnerà mai è così da molto tempo si tramanda di generazione in generazione e un giorno nel futuro apparirà qualcuno che sfiderà questo mondo facendosi carico di tutti i secoli di storia questa frase qua potrebbe anche Titch avere inteso anche se stesso se lui andrà a sfidare il mondo certo facendosi carico di questa cosa poi lui sta studiando la storia è massimo esperto ma io sono sono convinto che sia così lui lui crede di essere questa cosa qua lui crede lui è convinto di essere predestinato il prescelto infatti poi lo dice la mia era lui è convinto di essere l'uomo che sovvertirà il mondo però barba bianca gli ha detto che Roger non sta aspettando lui ti voglio fare una domanda mentre stavo guardando alla luce di tutto quello che sembra l'esame dall'università o l'esame di stato alla luce di tutto quello che abbiamo studiato negli ultimi 5 alla luce di tutto quello che abbiamo letto negli ultimi 27 anni e che abbiamo letto in One Piece come ti spieghi il fatto che Roger sapesse che Joy Boy sarebbe arrivato dopo 20 anni che Wano si doveva aprire in attesa di Joy Boy che comunque lui è arrivato in anticipo e però chiede a barba bianca se voleva sapere come si arrivava a Laugh Tale per curiosità cioè era un ubriaco gli ha detto vuoi arrivare anche tu bisogna andare a vedere probabilmente anche in virtù di quanto sapeva aveva condiviso con Sibeck cioè alla fine credo che God Valley possa anche spiegarci questa cosiccia qua cioè alla fine Newgate era consapevole dei tabù del mondo perché il suo capitano li aveva trovati non per niente secondo me barba bianca sapeva dei Lunaria del Regno degli Dei sulla Red Line e tutte le altre cose ha messo e non concesso che quello che ci ha raccontato Sengoku non sia comunque una fake news perché tutta la roba di Sibeck che era il grande terrorista che conosceva i tabù del mondo può essere come ecco la fake news di Morgans con Luffy che è trincerato su Eged e si è rubato e ha messo alle strette Vegapunk certo è quello che bisogna vedere verissimo verissimo però quantomeno c'è una cosa che torna è che sia Newgate che Linlin che Kaido sapevano dei Lunaria questo almeno è la cosa che condividono tutti e tre e nessun altro oltre a loro sapeva di ste robe quindi comunque dice Sengoku voi del governo mondiale avete paura di un'immensa guerra che un giorno coinvolgerà il mondo intero a me non l'interessa ma quando qualcuno troverà quel tesoro il mondo finirà per capovolgersi verrà il giorno in cui qualcuno lo scoprirà il One Piece esiste davvero e Tic è felice eh certo anche lui ha detto che il One Piece esiste sicuramente forza si comincia Telo Nero oh no chiedo scudo vi mostrerò il miglior spettacolo di sempre che era quello che diceva prima tra qualche ora il mondo vedrà uno spettacolo come non l'hanno mai visto prima cos'è quel Telo Nero brava nera e mia figlia anche sono al suo interno cosa diavolo state facendo ora se volete scusarmi vorrei chiedervi di stare a larga da qui non vedo l'ora dice Catalina quindi lui gli ha già detto tutto cioè vedi qua e lui dice se fallisse ognuno per la sua strada perché evidentemente neanche Barba Nera sapeva che poteva introiettarsi il frutto sapeva poi esce no cosa sta facendo e non ha nulla di particolare Marina ora io vi svelerò il mio potere e saremo di nuovo nemici e gli punta il dito imbruttisce Buco Nero questa è l'abilità dovuta al mio frutto buio buio mentre questa quella posa pam e dice la forza attraente dell'oscurità che annulla ogni cosa è la forza sismica che distrugge ogni cosa ora che nelle mie mani non ho più rivali sono io il più forte Walter come dice sono invincibile se ricordo bene dice Karma dovrebbe essere impossibile ottenere due abilità da frutto del diavolo cazzo il porpo c'ha pure il nome Karma certo non ti ricordi poi no che era anche nel flashback di Roger e di Oden quando Oden lo trovava sull'isoletto che c'era sì che era quello che sì esatto quella con Toki però mi ricordavo dice un normale essere umano non sarebbe mai in grado di farlo ma come ben sapete Tic è un po' diverso la sua struttura corponea è strana sarà quello di aver portato questo risultato? beh l'avete visto? tutto felice allora raccontatelo al mondo intero noiosi cittadini amanti della pace marini governo mondiale anche voi pirati il futuro di questo mondo ormai deciso già da ora in avanti questa è la mia era guarda com'è felice lui invece è proprio lo sguardo lo sguardo della felicità folle è proprio l'estasi dell'oro eh sì come quando Tuco correva per il cimitero proprio sì 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 il potere lo sento invadere il mio corpo che abilità straordinaria tutto questo tutto in questo mondo sarà esattamente come voglio io il che tanto per cominciare significa che dovremo affondare Marineford e poi si picchiano male se in poco non ci sta no un'onda d'urto in quanto fortezza può essere ricostruita ma questa è Marineford un'isola posizionata quasi al centro del mondo dove la nostra presenza ha un significato per tutte le persone che temono la tirannia dei furfanti la giustizia in nome del senso di umanità ed equità non perirà pertanto non parlare di affondare questo posto con tanta disinvoltura pivello allora cerca di proteggerlo lui è proprio convinto che l'avrebbe distrutto poi arriva lo stronzo tu che ne pensi anzi barba nera è meraviglioso vedi l'occhietto ma lì sa te le facce che sono meravigliose sì cioè è proprio il contraltare di Luffy meglio di no abbiamo ottenuto ciò che volevamo e non siamo pronti per combattere con voi almeno per il momento tu questo sta aspettando io guarda dietro Boldi guarda il rosso cazzo andiamo andiamo poi ce ne cavano canaglie loro non fanno niente che terribile se ci pensi sì 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 lascialo andare guarda che attalina che bella che è non l'avevo mai vista no questa cosa che comunque loro li lasciano andare è veramente terribile ho capito che sta in mezzo a una battaglia stanno morendo tutti però questa cosa che li lasciano andare ma poi questa cosa che arriva a Shanks vero drago celeste mette fino a tutto tutti si stanno zitti è terribile Red Line Terra Santa di Marigio stanza dei 5 vecchi dei 5 stronzi nel nuovo mondo barba nera ha già iniziato a muoversi e uno dei novellini con una taglia superiore a 100 milioni è già diventato una sua preda conosce perfettamente i territori di baffi bianchi cioè lui appena ha finito Marineford è andato subito a cercare poi guarda questa tavola col senone di poi Saturn che parla di Bonnie e lui doveva essere cacato che Bonnie era in giro no è sì con orso sì conosce perfettamente i territori di baffi bianchi tra i pirati che ambiscono al titolo di imperatore sicuramente in vantaggio e poi non c'è precedente storico di qualcuno che abbia mangiato due frutti del diavolo se c'è una speranza di fermare la sua avanzata potrebbe farlo Marco la finisce con i resti della ciuma di baffi bianchi il problema è sempre la D port gas nero un esempio lampante ultimamente quel nome sta diventando troppo visibile agli occhi di tutti non vogliono che questa D diventi nota chissà perché a leggersi la bibbia di nuovo nuovo mondo su una certa isola basta vabbè che caldo si qua c'è la grande battuta dove sta ecco qua purtroppo sei troppo debole per entrare ma che ne dici potete entrare la mia donna se accettassi continueresti il viaggio insieme a me non ti sembra già di vedere come sarà e lo guarda malissimo vabbè fanculo bla 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 parlano che sta arrivando a Kainu eccetera 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 e qui arriviamo un po' più perché durante i due anni di timeskip c'è l'incidente di Rockyport e qua dice te lo ricordi quel centinaio di pirati a cui sottratto il cuore a Rockyport vivono tuttora nella paura sull'isola dei pirati se gli portassi il tuo cuore sarebbero tanto felici da festeggiare staffando il million room cioè in tutto questo la marina si è tenuta questi cento cuori di questi cento strunzi che stanno sotto barbanina nell'isola dei pirati sì va bene così così giusto per cazzo insomma è qua di nuovo siamo nella merda cobi l'eroe comunque grazie per l'incidente di Rockyport per merito tuo ho abbattuto Ochoku e sono diventato il boss dell'isola dei pirati a proposito di cicatrici ammiraglio non è che questo tizio conosce cicatrici di fuoco cicatrici di fuoco al mondo esistono quattro importanti poneglyph rossi due dei quali si dice siano in possesso di Kaido e di Big Mom mentre gli altri due sono introvabili tuttavia uno di essi pare essere nelle mani dell'uomo con le cicatrici di fuoco oh 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 quell'uomo viaggia su una nave nera come la pece e quando una nave nemica gli si avvicina la inghiotta in un enorme vortice potrebbe avere qualche potere io credo possa essere un uomo del governo cioè vedi no quante dicerie non si sa un cazzo è vero perché Saulo era un uomo del governo quindi comunque l'unico uomo io credo possa essere un uomo del governo d'altronde il governo mondiale è parecchio sporco se avessero una pietra i pirati non potrebbero mai raggiungere il One Piece poi sarebbe stata la cosa più logica da fare da secoli mandi uno stronzo a prendere il poneglyp rosso fine lo tiene a marigua dentro la ghiacciaia con il potere di Loh con i Musama col cappellone e fa vorresti salire sulla mia nave sei serio capitano che meraviglia ora sei disoccupata hai qualche obiettivo cosa farai adesso la giustizia ti ha cacciato via ma nel mio mondo la giustizia è diversa stronzate il fatto che ci siamo divertiti bevendo insieme non significa che io possa fidarmi di voi Luffy appena beve con uno siamo amici vieni è proprio il contrario oi oi hai forse malinteso il termine pirata non siamo mica un'armata di amichetti e l'imbruttita Luffy clamorosa eh sì infatti i pirati sono tali solo se hanno un interesse in comune invece per Luffy i pirati sono liberi non hanno interesse tu sei un uomo libero cosa vuoi fare? vieni con noi vieni nell'amicizia vieni nell'amicizia sì fu una battaglia abbastanza vasta che coinvolse rinforzi da ambo le parti dove Marco subì una sconfitta desolante barba nera inizia ad essere annoverato tra i quattro imperatori solamente dopo questo scontro quindi poi per due anni ci sono stati solo i tre imperatori il quarto non c'è in un'origine era un veterano dei pirati di baffi bianchi conosceva a fondo il territorio del babbo e dopo la sua morte ha conquistato rapidamente lui di Luffy non gliene frega un cazzo quindi loro stanno tutti parlando lui pensa solo al mangiare che è così io me lo aspetto così quando arrivano a Laugh Tale che con Robin che gli racconta la storia del mondo che pone che il Fluffy va in giro magna fa cose sarebbe proprio stranissimo se non facesse così ha conquistato rapidamente quelle acque usando il potere del Gura Gura che gli ha sottratto ad oggi è già considerato dal mondo uno dei quattro imperatori insieme al Rosso Kaido e Big Mama è un uomo disgustoso lo dice lui secondo voci al momento si stanno dedicando ad una caccia ai poteri ossia uccidere chi ha mangiato i frutti del diavolo per impossessarsi delle loro abilità con la borsetella di stanno puntando ai poteri dei frutti più forti fate attenzione e qui però è interessante col senno di voi stanno puntando ai poteri più forti e c'era Burgess e si voleva prendere il Gom Gom che apparentemente quando uno non sapeva niente dice ma Gom Gom è un frutto di merda e infatti leggi cosa dicono Usof e Cioffer sono in pericolo che vuoi che se ne facciano del frutto Ito Ito cosa Luffy tu hai già precedenti con Barba Nera o meglio Tic devi Luffy non gliela frega niente la faccio ancora con le guance coppie ma è così cioè Luffy non gli puoi raccontare io mi immagino se Luffy raccontano di Nika si addormenta si non puoi e poi vabbè qua c'era tutta la parte in cui si parlava per esempio di Aokiji ma il frutto fuoco fuoco verrà preso dal nostro Burgess guarda quanto era bello il lumacofono è terribilmente bellissimo sono troppo chiediamo in Giappone il lumacofono di Tici si c'è 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 sicuramente sono troppo felice è quasi come se Ace si unisse alla mia ciurma sai quella volta lui mi rifiotò non permetterò mai che l'abilità di Ace finisca tra le vostre mani e loro gli ridono in faccia e poi c'è vabbè questa cosa fantastica c'è la cattura di pudding che comunque sembra essere parte del piano no? eh sì perché loro non sanno leggere i poneglyph eh noi sappiamo che se sblocca il terzo occhio e a questo punto deve sbloccare per forza ma ha anche un potere incredibile pudding perché lei legge i ricordi delle persone ad esempio sì però sai il fatto che comunque la cosa che se lei sblocca il terzo occhio legge i poneglyph la deve la deve caccia fuori sì 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 certo questa è un'altra questora di Cieco è stata proprio buttata così è già scritto nella storia nel destino pure questa roba qui ah sì sì isola dei virati forza marmaglia alle navi piuttosto che lasciarlo alla marina sarò io a prenderlo e cosa saranno tutti quanti sarà Poseidon sarà qualsiasi cosa nessuno che chiaramente aveva pensato al potere di Boa Hancock è uno scherzo capelli bianchi pelle scura ali nere l'ho messa perché ovviamente lui è consapevole dei Lunaria certo anche Ticce mi arrendo tutti i miei idioti tutti i miei idioti sono diventati di pietra come quando io chiamo tutti i miei stronzi esatto tutti i miei idioti veri amici di Barbanera avrei tanto voluto mettere le mani sui tuoi poteri ma il merito di questa capacità è della mia bellezza se mi uccidessi i tuoi sottoposti rimarrebbero in quello stato nemmeno il prossimo utilizzatore non sarebbe in grado di liberare che da questo punto di vista è interessante come utilizzo cioè ha senso perché è anche magari la capacità non solo di saper maneggiare il frutto ma che ti consente di fare questa roba qui come immaginavo sei ostica oltre ogni immaginazione Boa Hancock e qui c'è quella roba fantastica no lui è contentissimo con Kobe anche qui no gli racconta i cazzi a tutto gli ha raccontato i cazzi i suoi a chiunque tranne a Crocodile a Crocodile che ti racconta di Crocodile ha avuto tema sì 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 voglio trasformare quest'isola di pirati in una nazione una nazione appartenente al governo mondiale cioè giustamente gli ha raccontato una parte piccola della verità dove io sarò il re regno di barba nera che te ne pare ma non dire stupidaggini potresti mai farcela sarebbe un paese di criminali l'Italia praticamente no guarda come lo guarda guarda come è felice non si distruggono i sogni delle persone comunque negozierò per la tua vita che meraviglia capisco quindi questa sarebbe la differenza tra gli stupidi che aspettano il permesso per combattere con noi e quelli che vengono a fare irruzione senza preoccuparsi niente male ora si che mi è tutto chiaro ma non cambieremo il nostro piano si farà e basta e loro volevano andare a marigio chiaramente toccare un saturn qualunque come potrebbe mai la marina abbandonarti visto che sei stato definito un eroe rimetterò la questione all'opinione pubblica in questo modo il governo non ne uscirà cioè loro in un modo o nell'altro volevano arrivare ai cinque astri di demenza interessante questa cosa che voleva fa usci fuori pubblicamente il fatto che c'erano cobi secondo me adesso che lo sto guardando secondo me lo faranno con Garp ma non gli serve se hanno adesso il potere è giusto è giusto non gli serve più ha bypassato già tutto ha bypassato tutto c'è ragione sì sì e Catarina gli fa la bella festa appena rientra proprio poi ci hanno portato pure Caribo sì sì tra i miei ancestrali e lo scherzone mamma mia durante il quarto giorno delle Eveli nella terra sacra di Marijua i comandanti dell'armata rivoluzionale si sono scontrati con gli ammiragli della marina di Oko Gyu e il fugitore nel tentativo di recuperare Orso Zea poi lui è circondato da donne che c'è spugna e poi pare che nel paese di Wano dove vive quel mostro di Kaido si siano raddonati sia tutti quei ragazzini dalla testa calda sia il chiacchieratissimo cappello di paglia e proprio mentre l'imperatrice Big Mam gli sta dando la caccia lo capisci cosa sta per succedere lo scontro tra i più forti per aggiudicarsi il trono del re è già cominciato tutto contento e qui avete ottenuto informazioni su Barbaglia qua arrivano arrivano i cablo di Wikileaks di Assange no si dice che sia sicuramente partito dall'isola dei pirati e io che pensavo che sarebbe apparsa Uano Kuni ecco a te i dati sul capitano ho messo questo per la frase io che pensavo sarebbe apparso uguale perché il rosso e invece no e invece no quanti road poneglyph avete raccolto me li prendo tutti contentissimo ora la questione è se vendere o usare il frutto Ope Ope è vero che potresti anche donarmi l'eterna giovinezza questa è una cosa che capiamo e questo è un messo perché conosce anche i Sulong ma lui ha studiato lui ha studiato sono tutte quelle cose Barba Nera ha studiato Barba Nera il punto è questo è un po' anche qui così come Shanks fa delle informazioni il suo punto di forza Barba Nera si è fatto al piano studiando de notte su una nave di barba bianca e ha studiato perché in questo mondo d'ignoranti che è One Piece l'informazione è potere un Sulong impossibile non c'è la luna anche qui no non c'è la luna e poi qui anche per via della sua parentela di sangue ah lo sapevi qual è il vostro scopo dietro i vostri strani movimenti il mondo e poi è bella questa cosa che comunque lo dicano loro due eh sì lo dice solo Vanuga lo dice in realtà però sì sono loro consapevoli eh sì cioè che lo dice insomma i sodali di Barba Nera e finisce qui che meraviglia abbiamo visto tutto no? eh questa è una delle cose per esempio che diciamo spesso cioè quante vignette erano? erano erano un centinaio di di vignette eh cioè fai che erano tante tavole però giustamente alcuni erano solo pezzettini e fai i centocinquanta dai centocinquanta tavole cioè tutta la storia di Barba Nera in neanche un volume esatto c'è questo della fabbrica grandi misteri di One Piece e ti ricordo che io raccolto tutta la lore in duecento pagine tutta è un volume duecento pagine sì vabbè quindi è tutta la lore in un volume tutto Barba Nero in un volume e quindi te ne mancano duecento volumi per concludere One Piece ovviamente duecento volumi? sì sì perché finirà nel no? nel 2000 mai nel 2000 credici capiamo tiriamo le somme caro sommo tiriamo le somme capiamo capiamo allora il piano è il voler il mondo per voler il mondo vuol dire che vuole il trono del re lo dice no? sì il trono del re è quello che sta il trono vuoto eh sì ci deve andare io credo che a questo punto il suo piano veramente sia quello di dominare il mondo intero ma per me sarebbe clamoroso cioè sarebbe veramente il colpo da maestro di Oda adesso come dicevamo anche nel dip scorso perché sarebbe veramente meraviglioso se il governo mondiale la marina avesse un colpo devastante da Barba Nera cioè sarebbe anche la chiusura perfetta del cerchio no? Barba Nera che li ha gabbati sin dall'inizio sempre è l'uomo che ad oggi distrugge quantomeno la parte mi verrebbe da dimmalata perché tanto ecco no? Garpa lo diceva la giustizia comunque non muore mai ne sappiamo che c'è gente comunque come Kobe gli amici di Kobe che rappresentano la parte sana della giustizia e saranno poi la marina del futuro certo certo però la marina di oggi è è deviata è depravata è corrotta perché lì sopra c'è il truffolone e sarebbe meraviglioso se il truffolone che è rappresentato l'oscurità per 800 anni venisse inglobata dall'uomo che rappresenta l'oscurità sarebbe una roba clamorosa perché poi quello viene sconfitto basicamente dalla luce dalla luce cioè dal sole che sorge l'alba che verrà secondo te come reagirebbe la marina a questa cosa cioè avresti quel voltafaccia tra virgolette questo punto della marina al governo perché il governo non è più un governo ma è un governo di pirati o c'è chi visto che comunque cambia il vertice ma rimane comunque lo stesso putrido rimarrebbero lì non lo so perché alla fine questo può cioè nel momento in cui viene a crollare il governo mondiale e crolla veramente tutta l'organizzazione è il caos viene veramente a crearsi quella guerra di cui il governo ha paura quello di cui comunque parlava parlavano anche barba bianca barba nera le cose che abbiamo appena letto questo non lo so però io a questo punto me lo auguro che sia proprio barba nera a far calare l'ombra sull'uomo che è rimasto nell'ombra per me sarebbe clamoroso mamma mia cioè io giuro quando ci penso come vi ho detto la volta scorsa mi viene mi gaso mi gaso tantissimo perché è talmente bello è talmente funzionale dove tu avresti veramente il re dei pirati che diventa poi il re del mondo e poi hai la guerra non contro il governo mondiale ma contro il governo mondiale di barba nera pirata bellissima mamma sì perché poi è quello che dicevamo anche le altre volte nel momento in cui barba nera diventa re del mondo ma vuoi che poi non voglia puntare anche lui al one piece che è l'ultima cosa che gli manca cioè lì poi ce l'ha il clash certo tra luce oscurità speriamo poi tanto io ho promesso a me stesso dall'ultimo capitolo che non mi frega più niente non voglio avere più aspettative mi godo il capitolo settimana dopo settimana basta non voglio più sapere quello che quello che arriva quello mi becco però in questa cosa un po' di speranza c'è ma sì la speranza giusto a me ma è giusto avere speranza altrimenti cosa lo leggi a fare se non hai un po' di brio di aspettarti qualcosa perché altrimenti non ha senso però giustamente a me lo smacco che tu hai avuto con il capitolo scorso io lo ebbi con il 909 che è quello successivo ai Musama che io mi aspettavo di vedere quello che abbiamo visto poi nel numero 107 con Cobra che arrivava dentro e invece comincia Wano io ebbi una delusione talmente alta che poi ho detto basta io da qui in poi quello che arriva arriva no lì non dico che me l'aspettavo perché mi aspettavo insomma la scammata clamorosa e io non me l'aspettavo io ci speravo tantissimo no io sì però qui ormai siamo comunque siamo agli sgoccioli siamo agli sgoccioli cioè dal punto di vista diciamo di percentuale siamo agli sgoccioli quindi mi lo sarei aspettato un piccolo sbottonamento ma tanto cioè ci sarà mod non se la può scappottare questa a meno che non fa interrompere la cosa non voglio neanche pensare in quale motivo una minima stronzata prima o poi Vegapunk fra due tre dieci capitoli quando ha finito di bersi il caffè ce la deve raccontare ce la deve raccontare speriamo non lo so capiremo e ringrazio un attimo al volo Campagio 107 Antonio Knox 92 Raptor Longe Aston W Robin 87 Marco Rao 82 Joseph Barbaccia Gandalf Swag Marbella Papaya Show Peto Mystico Big Paradise per gli abbonamenti e niente fine 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 capiamo capiamo fateci sapere voi per voi che cos'è il piano di Barba Nera ricordatevi le cose che vi abbiamo detto esatto ma soprattutto ricordatevi che Barba Nera non dorme non dorme e che l'oro si riferiva ai compagni di Barba Nera che ha tre gemelli che ha tre gemelli ha tre cuori è un cerbero che si trasforma in un polpo che però è un kraken che al mercato mio padre comprò benissimo buonanotte buonanotte ciao